Ben, ho un lavoro per te. Un uomo vuole andare a caccia nel deserto. Un po' presto di questa stagione, no? Ha ottenuto un permesso speciale. La guida migliore dello Stato. Sì, me lo immagino. Muoviamoci. Lo sparo del fucile spaventa la selvaggine. Sono già spaventati, è per questo che vengono cacciati. Vedi niente? Maledizione. Dobbiamo portarlo in città. Ben, la situazione è più complicata di quanto pensi. La concorrenza mi distruggerà se verranno a saperlo. Buttalo! Ragazzo, hai rovinato tutto. Togliti i vestiti. Cosa? Non vorrei... Va bene, va bene! Ti guarderò morire. Andiamo bene. Guarda che sole. Brucia, vero? Vero? Charlie, non la passerà liscia. Non erano queste le regole. Non erano queste le regole. Vieni fuori. Attenzione, nuovo ingresso nel cast di Tartarughe Ninja 2. Dopo l'annuncio dell'ingaggio di Stephen Amell e quello dell'ingresso della top model di Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, arriva finalmente il momento del supervillain. Si tratta di Brian T, che avrete visto sul grande schermo in Wolverine, l'Immortale, oppure nelle serie TV Grey's Anatomy o Jericho. Ecco, T prenderà il posto di Toro Masamune nel ruolo di Shredder, il leader del clan del piede e acerrimo antagonista del team delle Ninja Turtles. A dirigere l'atteso sequel sarà David Green. L'uscita di Tartarughe Ninja 2 è prevista per il 3 giugno del 2016. Grazie per averci seguito. Al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.